Sono stati avvistati gli Scribi di Toilet nella vita reale Si possono trovare in certe strutture particolari E sono pericolosi a quanto pare Insieme guarderemo dei video degli Scribi di Toilet Giocheremo anche al gioco della Scribi di Toilet Parte 2 nei commenti Ma prima commentate quanto fa 3 più 3 Lasciate like e iscrivetevi Questi sono i video da cui è scadurito tutto, no? Cioè, allora, la musica è molto bella Ma mi chiedo perché? Perché dovresti voler fare questa cosa, porca puzzarda? Che problemi hai? Cioè, quale mente malata può fare una cosa del genere? Ma credo... Oh no! Cosa succede? Io non li ho visti questi video Cioè, non tutti almeno Ma che sta facendo? No, 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 scusami Non farmi male Non farmi male, ti prego Oh no! Star Wars! Ok Scappa dal cesso Scappa, 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 scappa Non puoi più scappare? Madonna Scusate, ma è normale Oddio, questi sono gli uomini telecamera Che sono stati avvistati negli episodi Degli schibi di DOP Yes, yes E... Degli schibi di Toilet Ah! Questi video sono maledetti Infatti ti fanno ballare Ti fanno proprio cantare Perché sono maledetti allo stesso tempo Cioè, sono musiche molto belle queste E questi sono dei tizi che Combattono gli schibi di Toilet Come vedete Ah! Scappa! Oh no, questo è il cesso di vino Oh no, si sta mangiando tutti Ok, però Sono riusciti a salvarli Grandi No, vabbè, ma raga Ma non siete normali Dai Cioè, uccideteli Fatele il presto Veloce È un'invasione, mio Dio, raga Speriamo di non incontrarli mai nella vita reale Anche se è probabile È probabile Io infatti Vi dico di stare attenti Se mai troverete queste cose E di tirare subito lo sciacquone Perché così Riuscite a eliminarli Se vi faranno del male Però mi raccomando Se li vedete scappate Assolutamente Cioè, non Tipo, io provo È che mi viene da ridere Perché è strana come cosa, no? Che schifo Oh mio Dio Ma sei una guerra stellare incredibile Più pazzurda Assurda Oh mio Dio Ma che figata è Sono appassionato a questa storia Adesso voglio sapere come andrà a finire No, eh No Vai Sconfiggeteli Vi prego Sconfiggeteli Sì Sì No No, 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 no Ma che caspita sto vedendo Ma scusatemi Ma cosa è successo? No, vabbè, ma raga Ma sta cosa qua è Cioè Posso dire che mi Amo sta cosa Questa è una spia, no? Che sta giocando di dire Che è successo? Brut Madonna se Sono brutti sti qua, eh Bene Bene, li avete sconfitti Come non detto Oh mio Dio Ma cosa sono questi mostri, raga Ecco Spero di non incontrare mai i ragni toilet Nella Vita reale Oh mio Dio Lo scrivi di toilet Super Mario Ma chi è stato a farlo? Ma quel piede cos'era? No Ok, perfetto Mangia Distruggi Sei Grande uomo telecamera Non uccidermi Ok Bene Vai uomo telecamera Tu sei la nostra speranza Fai squarica lo sciacquone Vai Bam Boom A destro Sinistro In giù Su Distruggi Così Fallo esplodere la testa Quello schifoso Bene Grande Esatto Hai ragione Tu Esplodi Esplodi Vai No, 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 no Non fare Oh grande uomo telecamera Grande Puoi distruggerlo Sì No L'uomo telecamera E' stato distrutto Che paura E' interrogato Dai Dai Sì E' impazzito Mi fa ridere Un pochino Raga mi sta facendo Venire l'anze Vi giuro Ma che cavai Vai Ok Sapete cosa facciamo adesso Andiamo a vedere Gli ultimi episodi Non so se ci sarà una fine a questa cosa Ma questo l'avevamo già visto Oh no Quindi gli schivi di toilet Non sono ancora stati distrutti Mi sa Porca puzzarda Posso combattere contro questi tizi Vai Combatti Così Sì Sentite che musica inquietante peraltro Cioè no aspetta Io sono stato ucciso Ahah Ok Posso iniziare il fight Vai 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 Distruggi distruggi Sbam 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 Vedete adesso Ho un'armata molto più forte di schivi di toilet Contro questi Cosi Interessante come giochetto Più o meno Mi fa abbastanza schifo Però vorrei capire meglio Se io adesso ne metto altri Tipo Questo 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 Via adesso Iniziatemi Armata super forte A distruggere questi altri giocatori Vai così Sì Sto vincendo Grazie ai miei schivi di toilet Vai Grande Wuhu Ho vinto Per fortuna Adesso mettine un sacco di più Vai così I miei fortissimi Ok Via Inizia Lo scontro Contro questi tizi Ne ho anche un sacco di conigli Che tecnicamente sono anche più forti Perché lanciano da distanza E ovviamente Ho stravinto Contro l'armata cattiva Dai per favore Non farmi altre pubblicità Ti prego però Che cacchio Dai raga Adesso mi fa No non voglio No vai 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 Così così Distruggi tutto Adesso possiamo Passare al prossimo livello E uccidere ancora più Anche se In questo momento Devo dire Sto vincendo tutto Quindi Non c'è nessun problema Oddio in realtà Questo mi sembra abbastanza complicato Ehi Ehi Raga non si distrugge questo Ah mi sta uccidendo tutto Porca puzzarda Questo sembra che ha trovato Gli schibi di toilet Nella vita reale Vediamo un attimo Reagiamo Ah Davvero la schibi di toilet Nel bagno Com'è possibile Non lo so Secondo voi è reale Perché secondo me Magari si Chi lo sa 吗 Fai Fai